1. Premessa. Una delle poche cose, anzi forse la sola che io sapessi di certo, era questa, che mi chiamavo Mattia Pascal e me ne approfittavo. Ogni qualvolta qualcuno dei miei amici o conoscenti dimostrava di aver perduto il senno fino al punto di venire da me per qualche consiglio o suggerimento, mi stringevo nelle spalle, socchiudevo gli occhi e gli rispondevo. Io mi chiamo Mattia Pascal. Grazie caro, questo lo so. E ti par poco? Non pareva molto per dire la verità neanche a me, ma ignoravo allora che cosa volesse dire il non sapere neppure questo, il non poter più rispondere, cioè come prima l'occorrenza, io mi chiamo Mattia Pascal. Qualcuno vorrà bene compiangermi, costa così poco, immaginando l'atroce cordoglio di un disgraziato al quale avvenga di scoprire tutta un tratto che, sì, niente, insomma, né padre né madre né come fu o come non fu, e vorrà pur bene indignarsi, costa anche meno, della corruzione dei costumi e dei vizi e della tristezza dei tempi che di tanto male possono essere cagione a un povero innocente, ebbene si accomodi. Ma è il mio dovere avvertirlo che non si tratta propriamente di questo. Potrei qui esporre, di fatti, in un albero genealogico, l'origine e la discendenza della mia famiglia e dimostrare come qualmente non solo ho conosciuto mio padre e mia madre, ma e gli antenati miei e le loro azioni, in un lungo decorso di tempo non tutte veramente lodevoli. E allora? Ecco, il mio caso è assai più strano e diverso, tanto diverso e strano che mi faccio a narrarlo. Fui, per circa due anni, non so se più cacciatore di topi che guardiano di libri nella biblioteca che un monsignor Boccamazza nel 1803 volle lasciare morendo al nostro comune. È ben chiaro che questo monsignore dovette conoscere poco l'indole e le abitudini dei suoi concittadini, e forse sperò che il suo lascito dovesse col tempo e con la comodità accendere nel loro animo l'amore per lo studio. Finora ne posso rendere testimonianza non sia acceso, e questo dico in lode dei miei concittadini. Del dono, anzi, il comune si dimostrò così poco grato al Boccamazza che non volle neppure erigergli un mezzo busto pur che fosse, e i libri lasciò per molti e molti anni accatastati in un vasto e umido magazzino, donde poi li trasse, pensate voi in quale stato, per allogarli nella chiesetta fuori mano di Santa Maria Liberale, non so per qual ragione sconsacrata. Qua li affidò, senza alcun discernimento, a titolo di beneficio e come si ne cura, a qualche sfaccendato ben protetto il quale, per due lire al giorno, stando a guardarli, o anche senza guardarli affatto, ne avesse sopportato per alcune ore il tanfo della muffa e del vecchiume. Tal sorte toccò anche a me, e fin dal primo giorno io concepì così in misera stima dei libri, siano essi a stampa o manoscritti, come alcuni antichissimi della nostra biblioteca, che ora non mi sarei mai e poi mai messo a scrivere se, come ho detto, non stimassi davvero strano il mio caso e tale da poter servire da maestramento a qualche curioso lettore, che per avventura, riducendosi finalmente a effetto l'antica speranza della buonanima di Monsignor Boccamazza, capitasse in questa biblioteca, a cui io lascio questo mio manoscritto con l'obbligo però che nessuno possa aprirlo se non cinquant'anni dopo la mia terza, ultima e definitiva morte. Già che per il momento, e Dio sa quanto me ne duole, io sono morto, sì, già due volte, ma la prima per errore e la seconda sentirete.